Noi volontari del Centro Studi Futura Progetto Alexandre Dumas 1802 di San Nicolò da Crissa, il 4 febbraio 2021 abbiamo partecipato alla diretta streaming sulle pagine di Enapaica e IC, un importante convegno, dal titolo appunto Fondi dell'Unione Europea, il nuovo settenato 2021-2027. L'obiettivo principale di questo convegno era quello di presentarci un mondo pieno di opportunità, promuovendo quindi idee e progetti per il nostro territorio in occasione dell'inaugurazione appunto del settenato europeo 21-27. Hanno partecipato e intervenuto a questo convegno il presidente di Enapaica e di IC, il segretario generale di Enapaica, il dottor Cortellano e il responsabile dell'area tecnica Costa. Si è parlato di vari programmi e vari progetti che verranno attuati nei mesi a venire, spiegando nel migliore dei modi il vero significato di questo importante ente nazionale che è appunto Enapaica, rilanciato poi anche dall'AIC, l'Associazione Italiana Coltivatori, e mettendo in evidenza che essa non si concentra solo sulla formazione ma anche sulla progettazione. Un altro punto fondamentale toccato nel convegno è stato il mettere in risalto che con questo nuovo settenato anche le aziende agricole potranno innovarsi digitalmente e proprio Enapaica darà le informazioni riguardo i finanziamenti dell'Unione Europea. Ci auguriamo che tutto ciò possa offrire a noi giovani una grande opportunità.